Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Mariolina Sattanino, giornalista, buonasera, benvenuto Gianrico Carofiglio, ex magistrato, ma soprattutto scrittore, Giovanni Flores, ciao, buonasera, conduttore qui sulla 7 di martedì e buonasera Marco Tarchi, politologo dell'Università di Firenze e grande studioso, esperto della destra italiana. Allora, e la interpelleremo, come anche gli altri ospiti, sul caso Nordio, che è così esplosivo da indurre Giorgia Meloni a difenderlo ben due volte in 24 ore, l'ultima da Algeri dove era in missione. Ma che battaglia si sta giocando sul Ministro della Giustizia? Subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Giovanni Flores, il caso Nordio è così esplosivo da indurre la Premier Giorgia Meloni a intervenire due volte in 24 ore, l'ultima da Algeri dove stasera si è conclusa la sua missione per il gas sul fronte energetico. Ma ci fai capire che battaglia si sta giocando sul Ministro della Giustizia? Guarda, secondo me Giorgia Meloni è davanti a un problema generale che ha. Lei ha vinto le elezioni tenendo insieme una coalizione in cui era evidente che lei portava i voti, il carisma e che era quella importante. In cambio del riconoscimento di questo ruolo ha dovuto dare delle bandierine alle altre forze. Ha dovuto parlare di navi delle ONG per la Lega invece di parlare del tema immigrazione. Ha dovuto parlare delle mascherine invece di parlare di Covid. Ha dovuto in qualche modo per tenere Forza Italia parlare di intercettazioni, così un po' slegate dal contesto. Sono delle bandierine che lei ora si rende conto che potrebbero tranquillamente essere messe da parte. Ma Giorgia Meloni è sola al governo, è sola perché ha una coalizione che non si è reso conto di quello di cui si è reso conto lei. Cioè di quanto è difficile governare, di quanto ci sono delle priorità e di quanto temi così caldi che dividono fondamentalmente le élite, ma non l'opinione pubblica, in questo momento non dovrebbero essere quantomeno affrontati in questo modo. In questa solitudine lei si ritrova in tanti argomenti, non solo quello della giustizia e delle intercettazioni. Sono tutti argomenti che ognuno ritira fuori. Ma tu avevi detto, ma noi siamo quelli, noi siamo i liberali, noi siamo quelli delle intercettazioni. Lei dice, ragazzi, avevamo detto che la benzina calava ed è salita. Avevamo detto che se salivano le bollette toglievamo l'iva. Ci occupiamo di altro? E no, perché quello sei solo tu. Ci siamo anche noi. Condivide questa analisi, Gianrico Carofiglio. Lei oggi ha fatto su Repubblica un'intervista molto dura contro il ministro della giustizia Nordio, entrando nel dettaglio e nella sostanza delle proposte di questo ministro. Quindi intanto, siccome lei pensa che Nordio si accinge a essere il peggior ministro della giustizia della nostra storia recente, che cosa la fa essere così pessimista? Ed è vero quello che dice Giovanni Flores, che sono tutte questioni che interessano più le elite dell'opinione pubblica generale, anche perché sono spesso questioni tecniche, le intercettazioni, la diffusione. Sono un sacco di domande. Sono d'accordo sul metodo interpretativo di Giovanni Flores. se è esattamente così, le cose stanno così. Arrivi al governo dopo aver fatto demagogia più o meno elegante, più o meno spinta, e ti rendi conto che i fatti sono un pochino più complicati da affrontare quando sei al governo e non all'opposizione, in cui legittimamente dicevi quello che ti pareva. Fatta questa premessa di metodo, io non ho fatto assolutamente un'intervista contro il ministro Nordio e non mi sembrava neanche fosse dura. Io ho cercato di mettere in fila qualche cosa. Precisa è una definizione in cui mi riconosco di più, perché qui è necessario essere precisi in modo che non solo le elite o quei pezzetti di elite che sono interessati a questi temi, ma anche la più gran massa dei cittadini che tuttora ostinatamente vorrebbero occuparsi di politica, possano capire di cosa stiamo parlando. E qui stiamo parlando, per dirla con estrema franchezza, di alcuni reati gravissimi che minacciano la sicurezza della nostra democrazia, che non è soltanto la sicurezza intesa come incolumità delle persone, ma come la tenuta di una democrazia. E questi reati gravissimi sono, per fare nomi e cognomi, corruzione e concussione. Spesso la gente non sa cosa siano corruzione e concussione. Allora lo spiego brevemente. La concussione è quando un pubblico ufficiale, per esempio un funzionario di un comune, dice al cittadino guarda che se non mi paghi dei soldi, io ti mando dei controlli a raffi che rendo impossibile la tua attività. Un reato disgustoso, un'estorsione fatta da chi indossa una, virgolette, divisa. Una divisa dello Stato. Per questo tipo di reato, così come la corruzione, pensiamo alla corruzione in atti giudiziari, è un magistrato che prende dei soldi per far vincere la causa a qualcuno contro qualcun altro. guardatela dal punto di vista soprattutto di quello che perde la causa perché il magistrato si è fatto corrompere. E che reati che speso sono fondamentali anche per scoprire reati di mafia, no? Sì, sì, ma io questo lo vorrei lasciare un attimo da parte. Perché se no si rischia di perdere di vista il tema centrale di questo tipo di reati. Se si vuole smettere di perseguire, perché di questo si tratterebbe, abbandonando lo strumento delle intercettazioni, reati come corruzione e concussione, che sono quello che ho detto, va benissimo ciò che propone il Ministro e non so con quanta convinzione la maggioranza che è con lui. Se invece vogliamo fare dei discorsi seri sulla giustizia, dobbiamo parlare di altro. Mi lasci dire una cosa conclusiva. Succede a volte che un appartenente alle forze dell'ordine usi impropriamente le armi. È successo che qualcuno sia stato colpito durante un'azione di questo tipo e si indaga su quello che è successo e si sanziona il colpevole. Nessuno dice togliamo le pistole alla polizia perché una pistola qualche volta è stata usata male. Esattamente lo stesso discorso va fatto per le intercettazioni. Lei è d'accordo, Professor Tarchi? Le lo chiedo anche perché lei è uno storico della destra italiana e diciamo che nei fatti Giorgia Meloni adesso si trova in mezzo a uno scontro con la magistratura. Oggi ad Algeri lei ha detto che sulle intercettazioni non ci sarà nessuna marcia indietro, il ministro Nordio lei lo difende e ha però anche detto che bisogna correggere quello che non funziona e per fare questo non c'è bisogno di nessuno scontro con la magistratura che anzi deve collaborare. Che cosa succederà alla fine? Perché invece lo scontro c'è, è già in atto? Indubbiamente è un rischio abbastanza pesante che questo esecutivo si mette di fronte con le posizioni che ha assunto il ministro Nordio e non solo con le posizioni ma direi anche con il tono che ha utilizzato nella discussione parlamentare e che io direi ha avuto appunto degli aspetti un po' troppo accesi anche dal punto di vista di queste prospettive di difficoltà poi che si sarebbero venute a creare. Io sono d'accordo con quello che diceva prima il dottor Floris, cioè si tratta di un problema relativo alla eterogeneità della coalizione e soprattutto direi un problema anche di bilanciare le spinte che sono venute già a manifestarsi in questi primi mesi di governo. Forza Italia ha già dimostrato di avere delle insofferenze nei confronti del ruolo così egemone, così marcato, così apparentemente decisionistico quantomeno di Giorgia Meloni e sappiamo che questo ha già dato alcune evidenze. Ora in questo caso può anche darsi che abbia deciso la stessa Meloni di dare una sorta di contentino o comunque una compensazione a certi momenti di difficoltà e di frizione che si hanno creati assumendo però o facendo assumere al ministro Nordio delle posizioni che sembrano molto più quelle tipiche di Forza Italia che non quelle annunciate da Fratelli d'Italia. Mi scusi professor Tarchi, la interrompo solo per ricordare che Nordio, ministro della giustizia, lo ha scelto e voluto fortemente Giorgia Meloni che tra l'altro lo ha fatto eleggere come deputato nel suo partito in Fratelli d'Italia. Poi le posizioni di Nordio si conoscevano, si conoscono e lui dice, sostiene quello che sostiene in questi giorni ed è esattamente quello che già sapevamo. Quindi non è che ci possiamo chiedere se Giorgia Meloni abbia un'idea diversa di quella di Nordio, è il suo ministro. Su questo non sarei così certo, nel senso che ora ci sono delle esternazioni, ci sono delle prese di posizione, ci sono delle promesse, non torneremo indietro, faremo quello che abbiamo detto eccetera, ma sappiamo bene che in politica poi molte posizioni che sembrano radicali si possono modificare, si possono attenuare e non è affatto detto che non si ricorra alla solita classica tattica o strategia degli emendamenti, dei rinvii e così via, nel momento in cui si dovrà davvero arrivare a prendere posizione. Va bene, quindi lei pensa più a questa tattica degli emendamenti, sei d'accordo Mariolina Sattanino? Perché comunque è uno scoglio questo che Giorgia Meloni deve affrontare, anche perché sicuramente Nordio va molto bene a Berlusconi e a Forza Italia, ma Salvini e la Lega si sono molto smarcati. Berlusconi e Forza Italia che paradossalmente poi non lo volevano a Nordio perché è stata la Meloni al volerlo. Volevano la Casellati. Il problema è che effettivamente si tratta di un argomento molto divisivo all'interno della maggioranza di centrodestra perché è come se ci fossero due anime militarizzate, una pro e una contro la magistratura. In tutto questo però ci sono anche dei cambiamenti di posizione repentini perché per esempio il cambiamento di fronte di Matteo Salvini ha sorpreso tutti quanti. Non dimentichiamoci che uno dei motivi per cui è caduto il conte 1, il famoso governo giallo-verde, fu perché nella riforma della giustizia che doveva andare in Consiglio dei Ministri non c'era la separazione delle carriere e Salvini disse che questa roba è acqua fresca, oggi si schiera dalla parte opposta. Ecco quindi tutto questo crea veramente un caos accentuato come ha detto il professore dai toni che sono stati usati e da frasi che francamente sono abbastanza gravi. Quando il Ministro Nordio dice che l'Italia non è fatta di pubblici ministeri ma che cosa vuol dire? Cioè è una frase che al di là della polemica genera sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini e questo un Ministro non può farlo. Quando dice la cattura di Messina Denaro è in parti uguali in merito della magistratura e dei carabinieri ma che cosa facciamo? Creiamo degli steccati fra vari corpi dello Stato? Oppure generiamo delle rivalità che non esistono? Perché? Perché farlo? Ecco secondo me invece il succo di tutta questa faccenda è che i politici non vogliono essere intercettati e stanno tentando cercando un modo per arrivare a questo risultato ma non lo possono dire. In effetti è un sospetto questo che viene Giovanni Floris. Però siccome abbiamo visto i deputati andare in Parlamento col Cappio durante Tangentopoli, la Cateda era la Lega, però poi anche l'MSI, ovvero il papà di Fratelli d'Italia. Quindi diciamo che la battaglia per la legalità e per più giustizia è una battaglia che apparteneva ai padri di Fratelli d'Italia. E anche della Lega. Ma secondo me arriva il conto. Fino a che sei all'opposizione tu puoi giocare tutti i ruoli. Diceva bene Mariolina, ma Salvini aveva un altro ruolo. Sì, ma sono figurine. Adesso prende la figurina che può dar fastidio alla Meloni e stanno giocando. In Lombardia? Sì, stanno giocando. In vista della campagna elettorale. Il problema è che così si poteva giocare all'opposizione. Adesso non più. La battaglia sulle intercettazioni è in qualche modo, diciamo ora immagina Gianrico Carofiglio ci potrà dire come mai, sono già regolamentate le intercettazioni, già potrebbero essere selezionate, le cose che c'entrano. Già sono selezionate. Sono già selezionate. In più, diciamo, ogni tanto come dicevi, una pistola fa partire un colpo, ogni tanto invece esce qualche intercettazione. In quel caso l'ispettore del Ministero va a vedere se la cosa funziona. Ma non è quello il punto. La battaglia sulla giustizia, sulle carriere dei magistrati, sui giudici sono delle eredità di quando rappresentavano qualcosa. Di quando una battaglia del genere rappresentava un modello, cioè Silvio Berlusconi nel rapporto con le regole e l'altro modello. Siamo gli anni di Tangentopoli. Ma anche dopo, quando l'antropologia del paese era divisa in chi rispettava le regole e chi non le voleva rispettare. Allora rappresentava qualcosa. Persino l'intercettazione di Silvio Berlusconi era un'intercettazione che portava o a temi di penati reali, di reati penali, oppure a temi di colore. Comunque per cose che interessavano le persone in quanto erano Berlusconi. Adesso stiamo parlando di singoli casi di magistratura che dovrebbero, dal punto di vista dei politici della destra, ancora rappresentare qualcosa per l'opinione pubblica. Non rappresentano più nulla per un'opinione pubblica che è stremata dai giochi di parole, dai giochi di figurine. E dalla crisi economica e energetica. Problemi reali che io penso, anzi sono convinto che Giorgia Meloni lo abbia capito, ma è l'unica là dentro. È l'unica là dentro che dice ragazzi ci dobbiamo riorganizzare. Anche questo, qua il professor Tarchi forse ci può aiutare, è la storia della destra. Partono con delle parole d'ordine fortissime, con delle posizioni ideologiche, con un mondo da rivoltare e poi Alfano se ne va. E la storia anche dei populisti, partono con grande posizione e poi Di Maio se ne va. Ora a Giorgia Meloni toccherà andarsene dal centrodestra e con chi governa? Con Banca Italia, con i saggi del PD. Il problema è che governare alla fine porta sempre 2 più 2 a fare 4. Giorgia Meloni è l'unica che temidamente sta dicendo adesso guardate che fa 4 e tutti, no fa 11, fa 12, fa 13, ci metto anche il mio 20 e ci troviamo a discutere di intercettazioni che non sono un problema né per i magistrati né forse per qualche politico. Tra l'altro, Gianrico Carofiglio, le intercettazioni appunto non sono un problema, lei ce lo conferma e neanche la separazione delle carriere perché se cita il numero 21, 9 mila, no? Ricordiamolo. Sono due temi enormi, ma vorrei dire a chi ci ascolta che non è esperto di queste cose che oggi per fare un'intercettazione è necessario che ci sia un reato molto grave e uno deve decidere se vuole mantenere fra i reati gravi, come ho detto, corruzione, concussione oppure toglierli perché si può decidere quello che si vuole ma bisogna dichiararlo. Quindi ci vuole un reato grave. Ci vogliono gravi indizi dell'esistenza di questo reato. Non è che un giorno uno dice indago su Gruber e la intercetto perché mi va. No, ci vogliono che siano nelle carte già degli elementi di prova che definiscano gravi indizi dell'esistenza di questi reati ed è necessario che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile a proseguire le indagini. Come vedete un meccanismo stringente che rende l'intercettazione una cosa niente affatto ovvia e niente affatto scontata. Noi sappiamo delle intercettazioni che vengono fatte, ovviamente ci sono dei casi in cui vengono fatte in modo sbagliato, che dubbio c'è, ma non sappiamo dei tanti casi in cui giustamente le richieste di intercettazione prima della Polizia alla Procura e poi della Procura al giudice che deve autorizzarle vengono rigettate. Dopodiché c'è una procedura molto tassativa sulla durata, si possono fare solo per un tempo dato e poi devono essere prorogate, c'è un sistema di archivio informatico per cui le intercettazioni vanno tutte lì dentro. Oggi è cambiato, il Ministro parla di un sistema passato, temo che non conosca bene quello attuale perché è entrato in vigore quando lui non era più un magistrato. Il Ministro Nordio dice che è prioritaria la riforma della giustizia e si farà. Il Ministro Nordio, diciamo così, si può chiamare riforma della giustizia anche il fatto di spostare un oggetto, si può chiamare riforma della giustizia un rimuovere, uno strumento fondamentale per indagare sui reati dei pubblici amministratori, dei magistrati, dei poliziotti, di tutti i pubblici ufficiali che purtroppo delinquono, e i politici naturalmente, ma lasciamo perdere per un attimo i politici, pensiamo a questa trama quotidiana di condotte illegali che ci sono e che si destinerebbe all'impunità rimuovendo lo strumento delle intercettazioni. Mi faccio finire però su questo punto. Le intercettazioni vanno in una banca dati per accedere alla quale ci sono soltanto alcuni soggetti che devono dare un codice. Se oggi uno va a prendere un pezzo di intercettazione e registrato si può scoprire la storia delle chiavette che accadeva prima, in qualche caso sicuramente è successa. Ora, non dico impossibile perché molte cose si possono fare, ma è molto improbabile. Le intercettazioni sono troppe, non è vero, sono di meno di prima. Le intercettazioni costano molto, c'è un tariffario del Ministero. Ma poi se le riduci non è detto e tagli fuori quelle irregolari. Ma certamente, esattamente. Il problema è ancora, insisto a fare l'esempio dell'arma del poliziotto, del carabiniere. Le armi servono per controllare e eventualmente reprimere i reati. Qualcuno può capitare che le usi male. Vuol dire che dobbiamo disarmare tutti i poliziotti e i carabinieri o dobbiamo disarmare la giustizia rispetto alla repressione di reati gravissimi? Questa è la domanda. Professor Tarchi, ti do subito la parola, Mariolina Satanino. Comunque il Ministro della Giustizia Nordio è molto fiducioso, anche in serata ha ripetuto che lui vedrà Meloni in settimana, che ha il pieno appoggio e che andranno avanti. Andranno avanti, lei prima ha detto ma poi vedremo perché la tattica degli emendamenti forse farà sì che poi tutto si arenerà da qualche parte, è vero che però si sente forte senso di revanche nelle parole di questo Ministro della Giustizia e forse questo è quello che impressiona anche perché un Ministro della Giustizia deve fare il Ministro, rappresentare tutti i cittadini, non rappresentare neanche i magistrati di cui lui faceva parte. Ma non dovrebbe denigrarli però? Non dovrebbe, ecco, perché si sentono, lei da ex magistrato si sente denigrato quando... Guardi, io sono impermeabile a tutto. No, no, ma quando uno si chiede come avranno recepito i magistrati... Vede, c'era un articolo ieri su Repubblica, un bravissimo giornalista, Francesco Merlo, che è molto bravo al maneggio della lingua, oltre che come giornalista specificamente, diceva Ministro di Astio e Giustizia, alludendo a questo atteggiamento di incomprensibile, o forse comprensibile, rancore che sembra animare le dichiarazioni del Ministro nei confronti della categoria a cui apparteneva e che forse, dico forse perché non posso leggere nella sua testa, ritiene non lo abbia trattato come meritava secondo la sua sicuramente altissima opinione di sé. Altissima opinione di sé. Allora, Professor Tarchi, le chiedo, il Ministro della Giustizia Nordio continua a ripetere che c'è totale sintonia con Giorgia Meloni, ma continua a esserci anche totale sintonia tra Giorgia Meloni e il suo elettorato. Che cosa capisce di tutta questa battaglia l'elettorato di destra? Sicuramente l'elettorato di destra è sempre stato molto sensibile ai problemi che riguardano la criminalità. Diciamo pure che una buona parte dell'elettorato, perlomeno quello del Movimento Sociale Italiano, aveva certamente posizioni per usare dei termini un po' stereotipati, ma che almeno fanno capire delle cose molto più giustizialiste che non garantiste. Quindi può anche essere che da questo punto di vista questo tipo di impostazione che Nordio ha dato alla sua polemica possa essere recepito male. Come anche recentemente, in alcune occasioni peraltro l'ho fatto notare, sta di fatto che però è anche un elettorato che in situazioni in cui si creano forti momenti di contrapposizione con l'altra parte, cioè in questo senso soprattutto la sinistra, tende a compattarsi, soprattutto in questa logica, ormai stata ingiudicata. No, no, io parlo naturalmente della sinistra politica e quindi in questo senso c'è un vantaggio che in partenza Meloni può avere. Aggiungerei anche un fatto, sì, quello che diceva appunto Floris mi convince, salvo un punto, definire Meloni come isolata in questo contesto significa un po' passare sopra l'esistenza del suo partito, che è un partito in crescita nel quale si sono comunque già registrate alcune voci in parziale dissenso con l'impostazione. Sì, sì, io non dicevo politicamente isolata, io dicevo nell'approccio, nel capire che momento è. Non so se all'interno del suo partito, ma non solo sulle questioni della giustizia, sulle questioni dell'amministrazione, sulle questioni dell'economia, ci si è resi conto che il tempo dell'opposizione è finito, ecco. E se si è in grado come classe dirigente di affrontare i problemi che il governo del paese impone. Satanino e poi Tarchi. Ma perché è a lei che verrà chiesto conto di che cosa sarà capace di fare questo governo. Sia Berlusconi che Salvini sono lì pronti a sfilarsi alla prima occasione. Ma all'epoca furono casini e fini, no? Si muovono, esattamente. Cioè c'è sempre chi rimane col cerino in mano. Hanno una forma di movimentismo all'interno di una coalizione che sicuramente ha il fiato corto, però esiste, mentre purtroppo l'opposizione non c'è, non esiste. Professor Tarchi è d'accordo. Sicuramente Giorgia Meloni sta provando a fare politica con lo sguardo un po' più lungo che vada oltre le prossime elezioni locali e amministrative. Non a caso ripete dall'inizio che lei ha tempo perché resterà per i prossimi cinque anni, cioè la durata della legislatura. È vero che la politica italiana, non solo, ma diciamo la nostra in particolare, non guarda oltre i tre, quattro mesi? Io sottolineerei però un fatto che non è esattamente uguale il problema che può dare in questo senso Forza Italia rispetto a quello che può dare la Lega nella prospettiva di medio o lungo periodo che Giorgia Meloni ha di fronte. Ma vede più pericoloso Salvini o Berlusconi per Meloni? Berlusconi di gran lunga o perlomeno più che Berlusconi una buona parte del suo partito, anche perché Forza Italia ha in prospettiva qualche partner col quale potrebbe cercare di mettere in piedi delle alternative e ovviamente mi riferisco al terzo polo o altri settori più o meno attratti dalla impostazione, chiamiamola così, moderata. Mentre la Lega in questo momento deve pensare a ricostruire un rapporto con una buona parte di quello elettorato che ha perso e quindi può mandare qualche messaggio, può dare qualche piccola puntura, però non credo che sia intenzionata a sbaraccare niente, a far saltare nessun tavolo. Professor Tarchi, a proposito di ministri di questo governo di destra, il nuovo ministro della cultura San Giuliano, siccome lei è uno storico della destra e della sua cultura, le voglio chiedere, siccome San Giuliano ha detto che Dante è stato il fondatore del pensiero italiano di destra, è d'accordo? Immaginavo questa domanda parlando di queste cose. Va premesso che su Dante e sulla sua opera a destra, soprattutto negli ambienti cosiddetti tradizionalisti, sono uscite un sacco di opere in passato e si è fatta molta esegesi, eccetera. Messa nei termini in cui è stata messa dal ministro mi pare un po' una banalizzazione della questione. Si può discutere profondamente sul rapporto che Dante ha avuto con forme di cultura che il mondo della destra, ripeto, soprattutto quella tradizionalista, ha fatto proprie. Mettere una prospettiva di rapporto destra e sinistra è un'altra questione e mi pare piuttosto meno seria. Ha anche detto un'altra cosa, cioè che comunque non vuole costruire con questo tipo di interventi una egemonia che sia uguale e contraria a quella della sinistra. Beh, devo dire banalmente che se la pensa così allora non sa fare bene il suo mestiere, perché in definitiva se lui vede la cosa da destra deve capire che essendo la sinistra diciamo oggi in posizione molto di forza negli ambienti intellettuali, se la destra non sa mettere in campo una cultura alternativa che riesca comunque a vincere in prospettiva un confronto, allora è destinata... Quindi mi ha bocciato il ministro San Giuliano, professor Tarchi, Gianrico Carofiglio... Quanto meno vorrei rivederlo per discutere più profondamente di queste sue posizioni, un'altra volta potrebbe ripassare diciamo. È rimandato. Sento scrivo quello che ha detto il professor Tarchi, anche l'elegante espressione banalizzazione che è un garbatissimo eufemismo per questa affermazione del ministro, ma voglio anch'io fare un'affermazione forte questa sera, Leonardo da Vinci è stato il fondatore della cultura di sinistra in Italia. Ah sì? E vi prego di discorso... Non lo so, perché il ministro sa perché Dante... Allora, Giovanni Flore... Sono le discussioni che si facciano in classe, no? Falcao è di destra o di sinistra. Allora, tutto questo mentre sono scomparsi 20 miliardi di euro dai conti correnti degli italiani. Per mantenere il proprio tenore di vita in un anno ne hanno spesi 43 miliardi. Se le cose vanno così, a fine anno ogni famiglia avrà speso 360 euro in più per la benzina. Allora, se questo è il contesto... Con i benzinai che oggi hanno riconfermato lo gioco. Allora, cosa succede in genere in questi casi? Sì, che il dibattito si sposta sui grandi sistemi. Allora, dice il Fondo Monetario che un po' miglioreremo, l'economia andrà meno male di quello che ho pensato. Oppure, il lavoro deve essere libero o no? Tra cinque mesi, sei mesi, Giorgia Meloni ha promesso di abolire il reddito di cittadinanza. Allora, tra sei mesi, con l'economia che sta così, con i conti correnti, con i risparmi che scompaiono con l'inflazione alta, questo governo abolisce il reddito di cittadinanza. Un osservatore potrebbe dire, ma alla fine gli cambieranno nome. Allora, quanto elettorato sperava che ci fosse una svolta radicale con l'arrivo della destra? Un elettorato che ascolta il dibattito sulle intercettazioni, che ascolta il dibattito sulle mascherine, fermiamo non le navi delle ONG e intanto perde 400 euro l'anno o qualcosa si pensa? Diciamo che, tanto noi monitoreremo tutte le sere, ci sono anche previsioni che danno l'economia più ottimista sul fronte economico, perché nella seconda metà dell'anno l'inflazione dovrebbe, potrebbe diminuire. Però vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché domani c'è un anniversario che ci ricorda quanto l'industria italiana sia cambiata in questi anni. Guardate. Domani saranno 20 anni dalla morte di Giovanni Agnelli, simbolo dell'imprenditoria italiana nel periodo della grande crescita economica e sociale del Paese, come ha ricordato Sergio Mattarella. L'anniversario è anche l'occasione per chiedersi cosa sia diventata nel frattempo la Fiat. Paolo Bricco ricorda sul Sole 24 Ore che nel suo appartamento di New York, tra le molte opere d'arte, Gianni Agnelli aveva tre quadri su Torino, le sue strade e le sue montagne. Vent'anni dopo non esiste più uno specifico torinese negli equilibri italiani e internazionali. La cerniera formata da Torino e dalla Fiat è scomparsa. L'eredità anche simbolica di Gianni Agnelli è stata definitivamente consegnata alla memoria nel momento in cui Fiat, fabbrica italiana automobili Torino, è diventata un piccolo marchio di un gruppo a controllo francese e quando la finanziaria controllata dagli Agnelli è stata quotata in Olanda. Scrive Bricco che è difficile immaginare l'avvocato che presiede un'assemblea dei soci nella sala congressi di un hotel nell'aeroporto di Amsterdam. Un'altra grande firma, Salvatore Tropea, che per molti anni ha raccontato Torino e la Fiat ai lettori di Repubblica, prova a immaginare cosa avrebbe o non avrebbe fatto l'avvocato se fosse rimasto alla guida della sua impresa. Anche Tropea pensa che Agnelli probabilmente non avrebbe accettato che il quartier generale della Fiat lasciasse la città in cui l'azienda era nata. Uomo del secolo breve, esponente di primo piano di un sistema di potere, avrebbe poi avuto difficoltà a considerare più che una stravaganza l'uno vale uno, ma soprattutto avrebbe inventato qualcosa per mettere il suo grande amore, la Juventus, al riparo dal sospetto e dallo sberleffo. Siamo in chiusura, grazie professor Tarchi, grazie Mariolina Satanino, grazie Giovanni Floris domani sera qui sulla 7 con il tuo di martedì e grazie Gianrico Carofiglio, ricordo il suo nuovo libro L'ora del caffè che ha scritto insieme a sua figlia Giorgia ed è pubblicato adulti e le generazioni più giovani. Grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Hobbit la battaglia delle cinque armate e quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani a 8 e mezzo, arrivederci.